E' tutto pronto, l'albino fisca e calcio di inizio. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Il loro piano tattico abbastanza chiaro, semplice, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Suma dunque, l'azione e l'attacco. E il pallone se ne va via. Douglas Costa. Occhio al suo movimento. Ha spazio per tirare. Un tiro davvero inguardabile. Romulo. Palla persa. Nulla. Ottimo intervento difensivo. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. Tocco corto. Fox. Bellarabi. Stato fermato dal difensore. Bellarabi. Ci sono metri a disposizione. Buona la trama. Douglas Costa. Grande parata. Super portiere. Balla in out. Balla in out. Sarà corner. Difensore fa su al pallone. Maragna metri verso l'area. Galano. Grande intervento del portiere. Bellarabi. Bellarabi. Balla. Alaba. Draxler. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Cone. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Bacogu. Douglas Costa. Delprete. Romulo. Rafael Martigno. Cercano il buco nella difesa avversaria. Ottimo il tiki-taka qui. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Bellarabi. Bellarabi. Si avvicina all'area. Interrompono bene l'azione. Brienza. Con questa palla punta la porta. Romulo. Conclusione da dimenticare. Pallone altissimo. Corpo all'indietro. C'è spazio per andare. Lo salta di netto. Draxler. Prova a far partire il tiro. Grande parata questa. Si preparano a difendere su questo corner. Attenzione alle marcature. Resiste al tackle. Punta l'area. Occasione. È arrivato il gol del vantaggio. Ripartezza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere. E non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione. La chance che gli è capitata. Bravo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Occhio. Cerca l'area di rigore. Makogu. Sventa qui la minaccia. Müller. Draxler. Questa era l'occasione per pareggiare. Grazie. Un errore l'ha fatto il suo. Perdono il pallone. C'è il fischio dell'arbitro. Si riparte con un calcio di punizione. Conè. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Delprete. Baragna metri. Ottima lettura. Recuperano il pallone. Chiedira. Cruz. Miller. Miller. Con il Thomas Miller. Motivo preciso. Il portiere non ha potuto nulla. Ci vogliono dei piedi delicati come i suoi per fare queste cose. Hanno pareggiato. Dunque. 1-1. Brienza. Romulo. Conè. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Buon possesso palla. Cercando spazi. Gran tiro. Palla che finisce in angolo. Bacogu. Gagliolo. Splendida la parata in tuffo per il portiere. Brienza. Cercano di aprire la difesa avversaria. Grande pallone verticale. Mokulu. Ma la gran bella rete che concede adesso il vantaggio da gestire. Il risultato che cambia dunque a pochi stanzi dall'intervallo grazie al gol che stiamo rivedendo. Gol che potrebbe cambiare gli equilibri del match nella ripresa. Anche e soprattutto a livello mentale. Fotteggio è cambiato. Ora siamo sul risultato di 2-1. Arriva il finale.